Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, avrebbe avuto il Covid, il coronavirus, durante le feste natalizie, durante le feste di Natale. E' ciò che lei stessa avrebbe detto di recente in tv e anche nella carta stampata. In pratica la bellissima e simpatica Giorgia Meloni ripeto che avrebbe riportato il Covid, il coronavirus. Una vicenda questa che ovviamente è triste per lei e non è comunque positiva. Comunque la donna stessa, la politica in questione avrebbe detto sono già guarita, è stato solo un po' di febbre. Insomma, non nascondere di aver avuto il Covid, ma comunque di essere negativa al Covid attualmente parlando, di essere quindi guarita e di non averlo più. Bene, complimenti a Giorgia Meloni, questo video non vuole vedere la sua privacy, ma solo rinformare eventuali persone, nel pieno rispetto della sua persona e della sua privacy. Tanti saluti e baci alla bellissima e bravissima Giorgia Meloni, un augurio di buona vita a lei, alla sua famiglia. E al prossimo video ciò da un narratore italiano. Grazie a tutti.